Il numero legale era stato abbondantemente superato, c'è un problema tecnico che manca il parere dei sindaci revisori che essendosi insediati soltanto qualche giorno fa non hanno avuto il tempo materiale sufficiente per approfondire i temi che sono proprio di un bilancio di previsione e quindi essendo nuovi sindaci revisori hanno voluto aspettare qualche giorno in più cosa che era prevista e quindi ora io comunicherò al prefetto che malgrado ci fosse un numero legale per la mancanza in parte giustificata del parere dei sindaci revisori è stato chiesto di rinviare il tutto al prossimo consiglio che ovviamente sarà fatto dai nuovi consiglieri.